Un pescatro sito? E' permesso? Buongiorno. Buongiorno. Che vuoi? Dottor, io non ce la faccio più. Non so più che faccio. Sto a scena pazza. 18 anni di matrimonio. 18 figli. Adesso che mi ricordo, due anni fa, si mi avete sterilizzato. Mi ricordo perché potevo stare a porto con mia moglie senza pericola. Ti faccio tagliare il posto? E come cazzo si spiega che la moglie mi è incinta, Dottor? O veramente? Si. E allora c'è una sega? Una sega? Concetta? Sega. Ecco. Ma che volete fare, Dottor? Mi volete tagliare? Ma che capite? Io ti voglio se cazzo quintali i corna, che ti hanno capa cornotona.